ciao ragazzi in carichi star wars parte 2 andiamo a colpire consecutivamente avversari da più di 11 metri usando il fucile blaster per usare il fucile blaster bisogna andare negli amampotti io vi consiglio di usare questo trucchetto qua che ce li link a tutti andiamo qui vicino a tana vediamo se ci sono ancora se c'è ancora lo scagnozzale intanto che ci avviciniamo un like per supportare il canale mi raccomando il codice creatore vanno il trattino 8 primi vedete lì in basso a sinistra per aiutarmi a crescere per supportare come creatore allora chi l'arte uno di questi che vi droppa sicuramente il blaster 11 e poi 11 metri sono raga basta fare il ping vi dice quanti metri sono questi sono 30 non mi ricordo se devo a se devo usare il blaster da 11 colpici consecutivamente avversari da più di 11 metri lega non so forse bisogna per forza colpire giocatori perché non me l'ha contata e comunque che questa commissione abbastanza ce l'ha corso per supportarmi già detto codice creatore già letto